Si ripete anche quest'anno la giornata nazionale delle famiglie al museo e per l'occasione la prologo insieme con l'istituto Galizia di Neonucere Inferiore e quindi anche dei professori Capaldo, Santino Campagna, l'artista Marzullo ed altri docenti di materie plastiche abbiamo realizzato questo appuntamento in occasione di questa iniziativa. Quindi i ragazzi sono impegnati in due laboratori che si svolgeranno sia nell'arco della mattinata che nel pomeriggio, laboratorio La Creta che sarà un laboratorio plastico quindi i ragazzi avranno modo di lavorare con l'argilla per riprodurre nel caso specifico alcuni manufatti che sono presenti all'interno del museo archeologico nazionale di Volcei. In più sarà realizzato anche un laboratorio di pittura quindi si realizzeranno grazie alla collaborazione con l'artista Marzullo una serie di pannelli decorativi che poi verranno esposti in altre iniziative all'interno del contesto museale. Con il nostro istituto, il liceo artistico Galizia di Nacera Inferiore e Nacera Superiore per questo bellissimo evento che è attualmente in corso qui a Buccino. C'è il laboratorio Creta con un tornio e con la modellazione anche di piccoli manufatti sempre realizzati a mano e modellati a mano. Come hanno reagito i ragazzi a questa iniziativa? Benissimo, c'è ancora in corso un grandissimo entusiasmo da parte soprattutto dei bambini che sono molto appassionati di queste attività. Infatti l'argile che è un prodotto, un materiale naturale, duttile e malleabile attira tantissimo e si riesce veramente ad ottenere degli ottimi risultati sotto l'aspetto anche della piccola forma fatta da un bambino a livello artistico. Quindi si va oltre il ludico e si arriva verso l'apprendimento? Sicuramente l'apprendimento è quello che potrebbe essere effettivamente una sorta di orientamento e di formazione per un'attività futura che questi bambini crescendo, diventando adolescenti potrebbero poi attivare una volta con un percorso anche inerente al percorso di studi. Parliamo proprio della manualità, quindi c'è anche quel potere didattico della manualità? Soprattutto didattiche, non solo, anche per quanto riguarda l'aspetto della terapia, della manipolazione appunto di questi materiali argillosi che contengono diciamo della terra naturale e possono essere modellati. Si possono realizzare delle forme particolari che possono essere proprio poi completate anche a livello di decorazione, dipincendolo. Una manifestazione dedicata tutta ai ragazzi con professori del Galizia che si stanno impegnando in diverse attività nei vari settori, dalla decorazione al tornio e alla modellazione dell'argilla. Quindi noi abbiamo già svolto altre attività in questo luogo di alternanza scuola-lavoro con il nostro liceo portando qui le nostre scolaresche e sviluppando insieme agli organizzatori, alla Proloco, queste attività oltre che di ceramica, di modellazione e soprattutto portiamo avanti un progetto che viene chiamato Laboratorio Creta. Quindi un progetto Creta che è itinerante sul territorio e sta cercando di valorizzare le varie location di eccellenza che esistono nel Salernitano. Professoressa De Prisco, lei insegna al Galizia. Che cosa hanno realizzato i ragazzi stamattina? Attraverso l'uso degli stampi abbiamo fatto delle forme che poi verranno successivamente cotte e la gorgona che è presente qui al Museo di Buccino, un mascherone. I ragazzi come hanno reagito con questa manualità? Sì, sono stati felici appunto di manipolare l'argilla e di riprodurre stampi che avevamo portato noi fatti precedentemente, quindi è stata una mattinata interessante perché i ragazzi sono sempre curiosi e quindi hanno avuto un approccio davvero entusiasmante alla modellazione dell'argilla. Gerardo Marzullo, architetto e artista, ho ritorno a Buccino qui al Museo Archeologico Nazionale Gigante da prima con una mostra e oggi con questo laboratorio dedicato ai bambini. Sì, questa è la seconda volta che ritorno qui a Buccino. Io oggi con i ragazzi sto realizzando un pannello per quanto riguarda il contesto perché ci troviamo in un luogo d'arte, in un luogo sagra, in un luogo volceano e ogni immagine è significativa per quanto riguarda il segno, per quanto riguarda il contesto. Poi se un ragazzo si avvicina all'arte vuol dire che ha un sentimento diverso anche nell'approccio alla vita perché l'arte è comunicazione, è libertà, è sentimento e noi attraverso l'arte conosciamo altri popoli, altri luoghi e anche i ragazzi socializzano tra di loro. Professoressa Pecoraro, data l'amicizia con l'artista Marzullo, lei è oggi qui al Museo Archeologico Nazionale, Marcello Gigante di Buccino. Sono onorata, lo dico subito, per vivere, sto vivendo ancora un giorno che porterò anche a scuola nei luoghi dove io divulgo la cultura artistica. È un giorno che mi ha dato possibilità di leggere un luogo museale storico, un monastero che racchiude un'organizzazione museografica e museologica di grande risonanza. Le origini, le necropoli, la storia dalla pre-storia al mondo romano, al mondo etrusco, al mondo greco, un susseguirsi di una impaginazione meravigliosa di storia, mi ha lasciato senza fiato. Integrata a quello che stanno svolgendo questi grandi maestri, grandi per sensibilità, grandi per abilità tecnica, grandi perché sono dotati di maestria. Laboratori che servono come forma di didattica, di educazione. Educare i giovani, educare la società è un dovere morale di tutti, è il dovere di chi è operatore sociale. E io ritengo, come mi insegnava il mio grande Enrico Crispolti, docente dell'Università agli Studi di Salerno tantissimi anni fa, che oggi, più che mai, serve la figura di un operatore sociale. L'artista ha questo dovere, il dovere di educare, divulgare, il sapere della storia, che è forza esperienza delle nostre radici, e il dovere di divulgare ai postri, ai giovani, quindi, patrimonio, offrendoglielo attraverso la valorizzazione, la conservazione, ma prima ancora la conoscenza. Lei non conosceva il Museo Nazionale di Buccino? Purtroppo ho portato i miei giovani, forse in tutta Europa, e mi sento fortemente mortificata di non aver dato spazio a questi luoghi che mi appartengono, a questi luoghi che sono molto vicini a noi, che hanno così tanta storia. Non mi ero mai portata qui, seppur invitata più e più volte. Ringrazio, ringrazio fortemente l'operato dei giovani volontari della Proloco, del luogo, che si adoperano così tanto per dare spazio a questa essenza della cultura che sublime lo spirito. L'arte non solo raccoglie in sé le radici di chi siamo e dove andiamo, ma poterla divulgare ai giovani, con questo laboratorio stamattina, dove ho visto come i maestri della ceramica si sono adoperati, per dimostrare, ragazzi, che la manualità, il dato tattile, è legato al luogo ancestrale. Noi siamo nati, siamo figli della natura, come ci insegnano i greci, e attraverso il recupero delle azioni svolte dai nostri predecessori possiamo ricoperare quei grandi valori che abbiamo purtroppo perso, l'Humanitas. La Proloco di Buccino che gestisce il Museo Nazionale, qui praticamente organizza ogni mese delle mostre di pittura, di cui c'è l'architetto Marzullo che fa parte di questa commissione scientifica. Credo che dato il suo ruolo e l'amicizia con Marzullo non mancherà il suo supporto futuro a queste attività. Certo, certo, il maestro me ne ha parlato e mi ha invitata con orgoglio. Parteciperò a Spadatratta a tutti questi eventi culturali, perché attraverso il segno grafico, attraverso l'espressività cromatica, attraverso i segni della nostra contemporaneità, questi laboratori possono arrivare e avere un grande eco e richiamare quella che è la grande forma d'arte, che in ogni momento è insita in ognuno di noi e deve essere solamente divulgata.